Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 16 maggio 2022. Inizia l'ultima settimana di campionato, io vi ricordo l'appuntamento delle 12.55 con la compagnia della Live per parlare di tutti i temi del campionato e in particolar modo del Milan e vedete la Gazzetta dello Sport di oggi che giustamente apre con l'Enigmistica Sport domani gratis con la Gazzetta. Ci sono tanti rebus ancora da risolvere per quel che riguarda il campionato, in primis la lotta per il titolo ma mancano ancora i nomi di tutte le squadre retrocesse e delle squadre che parteciperanno ad Europa o Conference League nella prossima stagione. Fino all'ultimo, titola la Gazzetta dello Sport. Tutto in 90 minuti, domenica alle 15 si assegna lo scudetto. Fino all'ultimo gol, naturalmente. È il titolo della Gazzetta. Qui vedete Leao e Teo, i grandi protagonisti di ieri che hanno deciso la vittoria del Milan per 2-0 sull'Atalanta. Leao con un gol dei suoi e anche Teo con un gol dei suoi. Una partenza fenomenale. E poi un gol di sinistro. Molto, molto bello a battere musso. Milan 83 punti ma l'Inter risponde. L'Inter vince 3-1 sul campo del Cagliari. Lautaro scatenato. Inzaghi resta meno 2. La corsa non è finita. Inzaghi ha detto anche che può succedere di tutto. Io ho già vinto un campionato all'ultima giornata. A sinistra vedete Milan, Leao ancora lui, Teo da impazzire, Slalom di 93 metri, trionfo a 1 punto. Basta 1 punto a noi per vincere il campionato. Punto che dovremmo andare a fare domenica sul campo del Sassuolo. Domenica alle 15 in contemporanea. Sassuolo-Milan e Inter-Sandoria. Sandoria ufficialmente salva da ieri sera. Il commento di Stefano Agresti. Sprint entusiasmante. Pioli va oltre ogni limite. Si ritorna con la cantilena dell'over per formare. Quando invece in realtà c'è una squadra forte. Una squadra che al di là di quello che pensino i giornalisti. Cioè il fatto che siamo lì perché Pioli va oltre ogni limite. In realtà siamo lì perché ce lo meritiamo. E andiamo a giocarci il campionato sul campo del Sassuolo. Che ieri tra l'altro ha vinto il derby miliano con il Bologna. Quindi questo è il tema principale della giornata. Naturalmente il duello scudetto con una settimana che inizia. Sarà una settimana molto lunga perché si parlerà di tante cose. Si parlerà degli ultimi precedenti del Milan contro il Sassuolo a casa loro. Si parlerà dei ribaltoni dell'ultima giornata. Nel corso della storia del campionato. Insomma ne sentiremo delle belle. E comunque in ogni caso Pioli non va oltre ogni limite. Ma Pioli ha fatto un egregio lavoro costruendo una grande squadra. Caro signor Agresti. Bene. Andiamo alle altre notizie. Vedete Genoa in B. Genoa ha perso ieri 3-0 sul campo del Napoli. Che saluta Lorenzo Insigne. Con un calcio di rigore replicato. Dopo una prima battuta irregolare. Insigne segna. Il Napoli vince 3-0. Mandando in Serie B il Genoa. In concomitanza degli altri risultati. La Sampdoria come dicevo si salva. Oggi la Juventus tra Lazio e Pogba. Poi dopo vedremo meglio che cosa vuol dire questo titolo. Djokovic vince a Roma. Il re di Roma è Djokovic. Grazie a Italia mi serviva. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ribadendo che Pioli non è andato oltre ogni limite. Ma ha fatto uno splendido lavoro. Come dicevo prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo il Corriere dello Sport che dice il Milan lo tocca. Il titolo piuttosto sexy. Il Milan lo tocca. Naturalmente si parla dello Scudetto. Il diavolo batte l'Atalanta 2-0. Ma l'Inter passa a Cagliari 1-3. E resta a meno 2. Basta un pari. Corsa a suolo per lo Scudetto. Pioli dice il lavoro non è finito. Inzaghi non si arrende. Ultimi 90 da brividi. Tutto è ancora possibile. Sullo sfondo di questa foto. Che è la stessa della Gazzetta dello Sport. Si vede anche un pezzettino della magnifica coreografia. Di un magnifico stadio. Cioè San Siro ieri. Una cosa davvero da brividi. Che ha aiutato a trascinare i ragazzi. A battere l'Atalanta. Leao Eteo Hernandez a segno contro il Gasper. La replica di Lautaro. Protagonista con due reti. Manca un punto. Ecco questa è la sintesi. Manca un punto. E siamo campioni. Ma io sinceramente se dovessi esprimere un'opinione. Persegirei vincere. Ed evitare arrivi a pari. Così per una questione di. Soltanto numerica ecco. L'addio di Lorenzo al Maradona. Le lacrime d'insigne. Napoli e Casamia. Il capitano partecipa al 3-0 sul Genoa. Che retrocede in B. L'ovazione dei tifosi. Il giro di campo con figli e compagni. Juve Di Bala. E stasera il posticipo. Di Bala saluta. Lazio c'è l'Europa. Agnelli tratta con Pogba. E pensa anche a Milinkovic. Cesari perde immobile. Questa è la notizia. Per modo di dire. Insomma. Nole sesto. Roma è ancora sua. Vedete. Il successo di Djokovic. All'internazionale di tennis di Roma. Questo il Corriere dello Sport. Chiudiamo con Tutto Sport. Che appunto mette. Vedete. La cosa più importante. Cioè. Il mercato della Juventus. Voglia di Juve. Qui c'è una foto di un Pogba. Che insomma. Non sembra proprio convintissimo. Di tornare alla Juventus. Ma forse si farà. Oggi ci dovrebbe essere un incontro con l'avvocato di Pogba e Delict. Sul tavolo ritorno alle francese. E il prolungamento di Delict fino al 2025. Stasera la sfida con la Lazio. Chiellini di Bala. Ultima allo stadio. La gioia dice. Saluto con orgoglio. Se vi interessa. In regalo. Il poster di Chiellini. Con Tutto Sport. Se avete bisogno insomma di riempire e decorare una parete magari. Oggi le ultime due partite della 37esima giornata di Serie A. La Sampdoria contro la Fiorentina. La Sampdoria è già salva. La Fiorentina corre per l'Europa. E poi questa sera Juventus-Lazio. Milan meno uno alla festa. Gol di Leao. E' straordinario il raddoppio di Teo Hernande. E' stata tanta K.O. Ma la vittoria dell'Inter a Cagliari. L'invia di una settimana. L'appuntamento con lo Scudetto. Milan meno uno alla festa. In questa bellissima immagine. Dei nostri giocatori. In aria. E felici. Bene. Io vi ringrazio. Vi auguro una buona giornata. Appuntamento alle 12.55. Con la compagnia della Live.